diario di due imprenditori digitali ciao sono daniele besana ciao io sono marco gatti siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online io sono il fondatore di presentazione animata punto iti un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti io sono il fondatore di wp ok servizio di supporto wordpress con modifiche limitate da 89 euro a mese in questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online gioie e dolori successi e fallimenti obiettivi e risultati aggiornato ogni due settimane di venerdì ciao daniele buon anno ciao marco buon anno buon anno prima puntata prima puntata del 2021 come va come va vedo il solito sfondo dove sei ah sono sempre nel mezzo del lockdown ad amsterdam va bene il natale non in famiglia o meglio senza tornare in italia alla fine è andato comunque è andato bene stato un bel periodo di scarico di rilassare dove ci si può mi sono potuto rilassare ho potuto pensare al fare bilancio pensare a cosa cosa voglio e ti dico un regalo più bello che ho avuto di natale da mio fratello questo anello chi è in live può vedere il video può vedere questo anellazzo tamarro serve a pagare perché è praticamente lo stesso chip che hai nella carta contactless quindi adesso quando vado al supermercato posso pagare con il dito medio sono tutti contenti non potrei pagare col cellulare no non posso pagare col cellulare non non lo supporta poi vabbè l'idea è che se sei se sei in spiaggia se sei in piscina o cosa ma è ancora troppo tecnologico il nostro bagnere tu marco che ci racconti benissimo 2021 ho due microfoni che non funzionano ho fatto le bellissime prove e niente va bene adesso andrò a recuperare il microfonone che ho in ufficio non ho voluto portare a casa per non ingombrare la casa che già siamo in sei in remote working quindi insomma il microcubo è importante esatto 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 vabbè per la prossima prossima puntata vado vado a recuperare il green screen e il microfonone mi trasformo l'ufficio trasformo trasformo tutto trasformo tutto benissimo pimpanti ringraziamo i nostri digi imprenditori la nostra community nei notti dell'episodio c'è il link prescriviti alla community dei digi imprenditori se sei un digi imprenditore ti senti solo hai bisogno di confrontarti con altri digi imprenditori abbiamo una community di gente esperta molto molto in gamba pronta a darti i suggerimenti di cui di cui hai bisogno e poi dobbiamo ringraziare il nostro sponsor e ci abbiamo qui il nostro amico Roberto Tarzia che vediamo cosa ci ci racconta oggi buongiorno digi imprenditori qui con voi Roberto Tarzia oggi parliamo di Attic Campaign come sempre ma più nello specifico quanto tempo ci vuole quanto tempo bisogna dedicare per riuscire a costruire una strategia di mail marketing efficace partiamo dal presupposto che quando io parlo di mail marketing parlo sempre di contenuti di valore quindi non le classiche mail di coupon ma delle mail che costruiscono relazioni in questo caso se hai una newsletter settimanale e devi magari anche fare un po' di ricerca per riuscire a fare qualcosa di un po' più carino un po' più approfondito normalmente una tempistica può essere dall'una alle due barra tre ore alla settimana dipende ovviamente da quanto tempo ci metti a prendere le informazioni e quanto tempo ti ci vuole a scrivere la mail però generalmente in questa tempistica si può già realizzare un prodotto di qualità se invece parliamo di automazioni quindi la possibilità di creare un vero e proprio processo automatico che guidi il tuo utente all'interno del tuo ecosistema ovvero inizi a mandare delle mail informative in base ai suoi interessi in base alle sue azioni e gli proponga eventualmente anche nel percorso l'acquisto di prodotti o servizi beh normalmente per fare un funnel di vendita un pochino corposo ma senza andare troppo nel tecnico può volerci dalle une alle due settimane ovviamente anche qui dipende da quanto tempo ci metti per creare la mail quanto tempo per decidere bene la struttura ed eventualmente le implementazioni tecniche due settimane ovviamente non di otto ore al giorno ma di circa un paio di ore al giorno e già si può iniziare a creare un vero funnel un vero e proprio funnel automatico che inizia a dare qualche soddisfazione e che abbia bisogno soltanto eventualmente delle varie ottimizzazioni tramite abitest tramite verifiche e controlli durante poi l'arco della sua vita ricordiamo Active Powered abbiamo lo sconto del 10% usando il coupon DIGIMPRENDITORI per tutti quelli che vogliono iscriversi ad Active Powered che è il rimeditore italiano di Active Campaign anche se sei già utilizzato Active Campaign americano puoi fare il passaggio Active Powered e hai diritto al 10% di sconto per il primo anno e avrai anche supporto in italiano via email, telefono, chat, gruppo Facebook Daniele, allora ci siamo lasciati l'ultima puntata dell'anno scorso con un solo obiettivo da fare durante queste vacanze come è andato questo obiettivo? il mio è stato un successo il mio obiettivo era scrivere un report sulle cose belle del 2020 e l'ho fatto ho fatto in realtà un report che include non solo le cose belle però ho pubblicato sul blog di WPOK metto il link nelle note dell'episodio un report dove parlo dei successi, fallimenti, progetti un po' quello che in forma un po' più estesa andremo a parlare di quello che andremo a parlare oggi tu Marco? ma io dovevo fare tre nuove pagine secondo i dettami della UE UX è fallito completamente perché non ho fatto i conti con l'host il mio IT man ha preso vacanze io non capisco dove posso essere andato questo lockdown ho preso vacanza e non l'abbiamo fatto quindi non l'abbiamo implementato non l'abbiamo testato zero, fail inizio bene l'anno chi ben comincia a metà dell'opera va bene, va bene ma dai chiudiamo questo 2020 questa è una puntata annuale invece di fare le puntate di settimana questa è la puntata annuale Daniele, c'eravamo dati degli obiettivi per il 2020 esatto, c'eravamo dati degli obiettivi e vediamo come sono andati con tutto quello che è successo nel 2020 di assolutamente inaspettato faccio un attimo un cappello ho delle difficoltà con il 2020 perché se a livello professionale è andato molto bene e anche diciamo a livello personale non mi posso certo lamentare perché sono in salute sto bene, posso lavorare non ho, anche la pandemia non mi ha impattato relativamente ho due problemi il primo è che è stato un anno comunque drammatico un anno di perdita gente che ha perso familiari amici conoscenti gente che ha perso la salute gente che ha perso il lavoro gente che ha perso mesi di educazione e parlo dei giovani e gente che ha perso anche i sogni perché ci sono anche tanti imprenditori come noi che lavorando offline si sono trovati con le attività completamente completamente bloccate e quindi è stato un anno drammatico faccio un po' fatica a essere troppo a gioire troppo della mia situazione quando comunque intorno vedo che è stato un anno drammatico e il secondo motivo è che siamo delle bestie che si adattano un po' a tutto e quindi va bene sto bene non mi lamento però cacchio è anche vero che i piani erano completamente diversi anche per me ho costruito uno studio di vita dove potevo viaggiare passare mesi in giro per il mondo e non l'ho potuto fare quindi anche se è un lamentarsi di una cosa di cui posso vivere senza però è stato un impatto un impatto negativo quindi speriamo che le cose si risolvano presto e il 2020 non lo so faccio fatica a dare un giudizio complessivo senza tenere in considerazione queste cose Daniele siamo qui è ovvio quello che è successo a livello macro che ha impattato tutti quanti nel mondo però siamo qui a vedere i nostri risultati quello che il 2020 è stato per noi i nostri obiettivi che ci siamo dati gli obiettivi dovrebbero essere raggiunti anche nelle difficoltà anche se c'è qualche cosa che cambia sono d'accordo con te in realtà per me posso dire che il 2020 è stato un 2020 di successi ad averne di 2020 da un punto di vista lavorativo per come è andato per me è chiaro che a livello generale macroeconomico mi aspetterei un 2021 migliore però guardiamo in casa la nostra Daniele i tuoi obiettivi 2020 dai facciamone uno per uno come sono andati i miei obiettivi 2020 il primo era di leggere 12 libri e questo è stato è stato un successo ne ho letti 14 ho superato la soglia che mi ero messo e ne dico ne menziono tre che sono quelli che mi sono piaciuti di più il primo si chiama Subscribed di Tien Tzu e parla del subscription model quindi è il sistema ad abbonamenti perché è il futuro secondo quello che sostiene lui è il futuro prende tanti esempi di aziende che in vari settori sono passati a vendere con la subscription ed è il libro che secondo me mi ha spiegato meglio mi ha fatto veramente capire qual è il potere dell'abbonamento e come il come diciamo investire in marketing va visto in ottica in ottica abbonamento quindi questo è il numero uno secondo Delivering Happiness di Tony Sie fondatore di Zappos l'avevo già letto anni fa l'ho voluto rileggere perché ogni volta che affronto il tema customer service esce sempre questo libro se vuoi in azienda che si concentra sul cliente leggi Delivering Happiness quindi l'ho ripreso in mano l'ho riletto bel libro porca miseria dopo una settimana che l'ho letto è morto Tony Sie purtroppo situazione circostanze poco chiare drammatiche è venuto a mancare terzo libro They Ask You Answer di Marcus Sheridan parla della potenza del contenuto nell'inbound marketing una cosa non è un libro nuovissimo però spiega molto bene le dinamiche perché è importante creare contenuti e cosa succede quando tu crei contenuti e quando rispondi alle domande che potenzialmente ti possono fare le persone interessate ai tuoi servizi e questo era il primo primo obiettivo Marco Daniele anche io avevo un obiettivo che mi ero dato a leggere 24 libri a aumentare mi ho letti almeno 29 se non me ne sono perso qualcuno per strada libri di crescita personale vendita investimenti biografie produttività questi sono gli argomenti topic di quello che ho letto ne ho parlato durante durante queste puntate ogni tanto vi raccontavo di qualche bel libro che ho letto Daniele è forse una delle cose migliori che abbia fatto nel 2020 2020 serve serve tantissimo sono straconvinto che questa cosa di informarsi di crescere è fenomenale ed è fondamentale la consiglio veramente veramente a tutti quanti fermatevi un attimo l'investimento in voi stessi è una cosa che non vi porteranno mai via potete fare 100% in più di fatturato ma tanto ve lo tasseranno tutto tutto quello che investite in voi stessi vi rimane e vi rimarrà per sempre sono veramente contento di aver raggiunto ero partito a bomba quando ero in Mozambico che ne avevo letti una caterva e poi tornando in Italia mi sono un po' un po' fermato ma insomma alla fine sono comunque arrivato a 29 libri vai a te la parola ottimo secondo la delegare la parte marketing questo è il mio primo fail rispetto agli obiettivi perché ero partito bene nel senso che nel mese di febbraio marzo avevo iniziato a collaborare con un con un consulente marketing ne avevo parlato e raccontato in modo molto trasparente nel podcast l'esperienza non è andata come mi aspettavo non mi sono trovato bene mi prendo anche le mie responsabilità e colpe in tutta questa cosa però non ho poi continuato con questo discorso di delega perché ho cambiato ho cambiato proprio approccio mi sono reso conto che il marketing è una cosa talmente importante che riflette talmente tanto chi sono io i miei valori i miei approccio che l'ho trovato molto difficile da delegare in toto e poi mi sono accorto anche che avevo un po' l'approccio del tipo ok ho un problema adesso prendo qualcuno che mi risolve tutto ed è ed è un approccio un po' sbagliato pensare che arriva una persona esterna che ti risolve tutti i problemi di crescita e vendite quindi ho ripreso in mano io le fila più o meno lo gestisco io il marketing però mi affido degli esperti con competenze verticali quindi la persona che fa copy la persona che fa google ads la persona che fa seo e funziona sono soddisfatto non ho per il momento mi va bene così e tu cosa fai? Cordino? si Cordino decido io cosa fare diciamo mi occupo io di tutta la parte della gestione della parte marketing poi la parte più specialistica la faccio fare queste figure no Daniele perché anche io faccio la stessa cosa cioè c'è chi fa i copy c'è chi fa ads però mi sento completamente fuori una volta che gli ho estruiti una volta che abbiamo fatto una volta che facciamo una colla di allineamento trimestrale semestrale cioè per me io ne sono completamente fuori sono completamente contento cioè mi sento fuori tu invece dici che ti senti dentro beh mi sento dentro perché non ho nessuno che decide ah facciamo campagne facebook oppure spostiamo facciamo questa nuova questo nuovo lead magnet non ho nessuno che decide per me è una cosa che devo decidere io e poi la faccio convolgendo poi i vari esperti nel senso che io gli do dei budget per le campagne e loro devono sbizzarrirsi e fare in modo di verificare fare degli abitest migliorarle variarle e poi fanno un report mensile sì vabbè adesso non so perché mi ricordo che tu è una persona che fa un po' di tutto comunque è una consulente che fa diverse cose cioè io sono passato all'approccio persona che decide cosa fare ha il budget decidi se oggi bisogna fare un lead magnet domani bisogna fare la campagna facebook a invece avere persone più verticali quindi chi fa google ads non mi viene a dire cioè non mette le mani sul sito o migliora le landing page non è un'attività che fa quello lo devo fare io o comunque rientra nel nel ruolo che mi che mi sono preso io ecco va bene è che abbiamo questo approccio ma lo vediamo in modo diverso io contento di aver delegato tu contento di tenere le regini però stiamo facendo la stessa cosa sono due visioni diverse una cosa molto simile era interessante questo diverso modo di vedere le cose sì e per ora non resto così funziona come si dice se funziona quanto basta non toccare lo che si guasta quindi per il momento il marketing è così va bene il mio secondo obiettivo era scrivere il libro di presentazione animata direi centratissimo non solo scritto è arrivato bestseller e adesso ce la tiriamo un po' e quindi obiettivo centrato vai Daniele beh lo smarchi velocemente è stato un grosso sì ne abbiamo parlato a lungo nel podcast il terzo obiettivo mio era correre due eventi due gare due tapasciate due cose e questo l'ho centrato a metà nel senso che avevo fatto l'unico evento che c'è stato qua era a 10 km a gennaio al parco qui vicino a casa mia a cui ho partecipato poi poi tutti gli eventi di corso sono stati cancellati quindi non ho potuto fare il secondo evento che volevo però sono super contento perché attraverso fine anno visto che la corsa è diventata l'antiloto a stare tutto il giorno in casa e visto anche che il piede con cui avevo avuto dei problemi si è sistemato un po' di eco sono tornato a correre la distanza della mezza maratona quindi sono contento perché non ho fatto un evento in una gara niente di simile però sono riuscito a farlo per conto mio adesso Marco sono quattro settimane faccio una maratona una mezza maratona alla settimana sono contentissimo vedo il tuo strava vedo il tuo strava so che ti ho spronato a fare la mezza maratona adesso è vero ho paura chissà dove vai dove vai cosa fai possiamo metterci di fare una maratona insieme Daniele in qualche parte in giro per l'Europa quindi sì diciamo sono contento dell'obiettivo corsa anche se non ho potuto fare due eventi perché non ce n'è proprio stata occasione non ci sono stati bene io avevo come obiettivo quello di aprire un blog per l'investimento in PR2PR lending il blog l'ho aperto a inizio a febbraio e ho incominciato a scrivere mi ha aiutato tantissimo a focalizzare una serie di cose una serie di pensieri che avevo ma il fatto di doverli scrivere mi ha spinto a ragionarci a ragionarci sopra a ragionarci più a fondo e quindi anche essere molto più coerente rispetto a quello che sono abituato abituato a fare penso faccio delle cose la parte più emozionale degli investimenti vince e faccio il fatto di dover scrivere di dover relazionare agli altri mi ha aiutato tantissimo a focalizzarmi sono stato contento quindi il blog è stato aperto l'ho tenuto in piedi un paio di mesi poi mi sono rotto le balle perché sono come i cani hanno usato altre cose quindi i miei interessi sono andati verso l'altro e alla fine l'ho chiuso l'ho chiuso il blog perché non aveva senso tenerlo non aggiornato però insomma l'ho fatto per quello che serviva ha funzionato sono contento win ok il prossimo obiettivo era registrare 12 video ne ho registrati 15 più video per il canale youtube di WPOK ne ho registrati 15 in più c'è stato WPOK Day quella giornata di formazione live che ho organizzato in cui ci sono stati altri 10 12 video relative all'evento quindi il canale sicuramente insomma ha visto nuovi contenuti e ha un soffio dai 1000 subscriber nel canale tipo 993 mi pare quindi se ascoltate e non siete e non seguite il canale di WPOK andate a cliccare su subscribe follow e la lampadina e la campanella sì è la campanella che vi notifica quando esce il nuovo video di Daniele comunque dai video al mese ci sta la notifica Daniele il mio quarto obiettivo era quello di pensare a una fondazione a istituire una fondazione che fosse sul diritto allo studio sulle energie rinnovabili su questo fail completo pensavo che il fatto di stare in Mozambico quindi a contatto con un sacco di ONG di cooperazione internazionale mi è potuto aiutare in realtà come sapete la missione in Mozambico è terminata in anticipo causa Covid e quindi siamo rientrati in Italia e da lì poi questo obiettivo l'ho lasciato perdere fail ma poi ho detto fail fail completo non ci sono arrivato di più grosso fail chiudo anch'io con un grosso fail visitare tre nuovi paesi è stato piacchio dobbiamo andare in viaggio di nozze in Giappone volevamo girare vedere qualcosa di nuovo in Asia vabbè è andata così niente di nuovo comunque vabbè mi rimane mi rimane il bel ricordo del febbraio dell'anno scorso quando abbiamo girato via terra l'isola di Java per un mese è stato un bel ricordo e anche il ricordo dell'estate che tra tra un'ondata e l'altra siamo siamo riusciti a scendere in macchina in Italia e abbiamo fatto qualche giorno con la famiglia in Toscana bello bello è stato probabilmente la highlight del 2020 e quindi a parte questi obiettivi ci sono stati altri win e fail nel 2020 Daniele esatto da dove partiamo perché qui la lista è lunga partiamo in positivo dai successi vai successi ok allora il mio primo successo è legato ai risultati è stato sicuramente un anno di crescita per il più ok ora non è un segreto che il mondo online forzatamente si è trovato a crescere con la situazione con il lockdown forte spinta allora nel 2019 eravamo cresciuti del 30% nel 2020 siamo cresciuti del 50% come risultati ma soprattutto come risultati come fatturato siamo precisi ma soprattutto la composizione di questo fatturato perché c'è stata molta crescita delle subscription cioè a livello proprio di direzione il più ok sta andando sempre di più nella direzione di concentrarsi sugli abbonamenti quindi sulla gestione dei siti e meno sui lavoretti one time e one off quindi l'MRR è cresciuto è triplicato praticamente quasi triplicato nel corso del 2020 sono contento dei risultati sento l'invidia di tantissimi ascoltatori bravo bravo complimenti Daniele dobbiamo per forza crescere Marco dai tu bene allora grossissimo grossissimo obiettivo non era un obiettivo grossissima vincita grazie Covid l'ufficio funziona anche senza me senza di me io non devo andare in ufficio io avevo questa mentalità che dovevo essere presente in ufficio sempre dalla mattina alla sera grazie al Mozambico già eravamo sulla buona strada ma anche tornato dal Mozambico grazie Covid si va avanti le cose vanno avanti senza di me bellissimo fantastico certo c'è la supervisione faccio consulenza a tutti i miei collaboratori i miei dipendenti ma sicuramente non sarei arrivato a questa conclusione se non ci fosse stato nel Mozambico nel Covid avrei sempre continuato a stare in ufficio a controllare perché se non ci sono lì io le cose non vanno avanti bisogna a volte ringraziare le disgrazie a cercare anche di trovare le cose buone che portano per esempio nel fatto di digitalizzazione il Covid ha fatto fare dei passi da gigante anche al paese Italia un paese europeo ci sono state delle cose incredibili c'è banche che non devi andare di persona a firmare ma puoi farlo online il comune che per avere una password prima dovevi andare prendere l'appuntamento andare firmare controfirmare risolta in 20 secondi cioè in 20 minuti mandata l'email mi hanno risposto per cui ci sta una forte accelerazione sulla digitalizzazione sì Marco il successo è che le cose vanno avanti senza ufficio o che vanno avanti senza di te in ufficio allora uno devo capire cosa fare nell'ufficio perché lì a parte tenere il microfono è tutto questo vedremo vedremo se mai si ripartirà se mai che cosa succederà più che altro se ci sono dei clienti che chiedono un incontro almeno c'è una sala riunione il successo è che vada avanti senza di me no però senza la mia presenza fisica cioè questo è la cosa la cosa fantastica cioè non devo essere lì io ho sempre lavorato vecchi tempi in presenza con i miei dipendenti no e quindi ero sempre lì spronavo qualsiasi cosa e invece è fantastica questa cosa di non dover essere presente e questo mi sprona per il futuro e quindi a non dover ristare completamente sempre in ufficio sì il modo di lavorare è cambiato anche per per gli uffici tradizionali Marco il mio secondo successo che che mi porta a casa è il miglioramento del servizio è un sai che per me il fatto che vendo un servizio che va erogato quando c'è crescita devo sempre fare attenzione che l'erogazione del servizio e la qualità e quello che facciamo segua comunque e che si adatti all'aumento dei clienti insomma è una cosa molto importante sono contento di come abbiamo migliorato il servizio nell'articolo che ho pubblicato sul blog ho messo un po' di dati comunque sono quasi raddoppiati il numero di ticket quindi il numero di modifiche problemi che abbiamo risolto sui siti quindi c'è stato quasi doppio volume di ticket i tempi di risposta sono scesi più o meno del 30% e comunque ho visto che la soddisfazione dei clienti si è mantenuta alta perché almeno su Trustpilot abbiamo continuato a ricevere ottime recensioni sono raddoppiate le recensioni che abbiamo ricevuto e oltre a questo ci sono state le cose importanti per migliorare il servizio abbiamo cambiato la piattaforma che utilizziamo per la gestione di tutti i siti siamo passati da InfiniteWP a ManageWP che è una soluzione che costa molto di più però è molto più affidabile permette di lavorare in modo più spedito ci aiuta di più nella gestione dei siti dei clienti poi abbiamo introdotto il visual testing per fare confronti proprio a livello di screenshot prima e dopo delle modifiche che ha permesso di rendere più affidabile quello che facciamo soprattutto con gli update perché sai fai gli update poi ti accorgi che ho sparito il bottone però grazie al visual testing si riescono a identificare i problemi in modo visuale poi abbiamo lanciato il piano shop mi sa che l'avevo annunciato a dicembre 2019 comunque è stato l'anno in cui il piano shop ha iniziato a prendere piede perché è il piano pensato per chi usa WooCommerce e vende online poi c'è stata la revisione dei prezzi di cui avevo parlato nel podcast quindi abbiamo aumentato rivisto un po' i prezzi e in concomitanza introdotto il servizio di pronto soccorso per chi ha un sito ha una situazione critica sul sito il sito bloccato il sito offline e sta funzionando perché comunque diamo risposte rapide cioè i ticket di pronto soccorso come è facile immaginare hanno priorità e quindi vedo che più della metà dei ticket riceve una risposta nel giro di 60 minuti e in questo miglioramento del servizio ci metto anche il fatto che abbiamo fatto il corso sul customer care insieme a Francesca Taddei che per me è stato molto bello molto bello come occasione di scambio come attività da fare insieme è molto bello perché adesso vedo che i ragazzi sono più tranquilli nel rispondere ai clienti anche in situazioni dove magari il cliente è un po' nervoso eccetera riescono a gestire meglio la comunicazione quindi sono contento di come migliorato come abbiamo migliorato il servizio durante il 2020 buono bravissimo qualità qualità è fondamentale no è un nostro mantra quello sempre di migliorare la qualità essere customer centric quindi pensare sempre ai bisogni del cliente anche noi abbiamo aumentato la qualità abbiamo aumentato la qualità dei video abbiamo introdotto questi video advance fatti fotogramma per fotogramma questo ha portato anche a salire come qualità dei clienti e fare anche dei video molto 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 più belli tanto è vero che io ho ancora i video vecchi di cui ogni anno mi vergogno dei video fatti l'anno precedente visto che la qualità sta salendo qualità che ha portato quindi a me non tanto a un fatturato più alto ma a quanto a perdere tutto quello che era il low cost e quindi tutta una serie di video fatti low cost con low margin e quindi in realtà ho aumentato il profitto quest'anno cosa che è stata più che aumentato il fatturato siamo sono contentissimo si continua sempre a andare sulla qualità che è un mantra anche per il 2021 dove avremo anche video in in 3D questo lo spoiler stiamo facendo quindi sempre sempre qualità più alta tanto è vero che arrivano anche nomi nomi interessanti a contattarci per fare dei video non spoilerò niente ma ragazzi potrebbero esserci delle grosse novità pixar vi ha contattato per un'animazione esatto esatto se gli facciamo un video intero io ci metto 3 successi di WPOK Day questa questo evento live che ho fatto in occasione del compleanno dei 5 anni quindi il compleanno di WPOK era un po' verso la fine del primo lockdown in Italia quindi tutti si erano buttati a fare live eventi al vivo ho detto forse è l'occasione insomma il momento che prendo la parola al balzo faccio anche io qualche cosa e devo dire è uscito è uscito bene mi sono divertito è stata un'esperienza interessante feedback positivi quindi quest'anno sicuramente lo voglio organizzare ancora però è stata una delle cose uno dei successi del 2020 Daniel è un grande win che è stato un tuo fail non per colpa tua ma nel 2020 ho passato sei mesi al mare sei mesi tra Mozambico e Toscana tra Mozambico e Toscana alla fine in questo 2020 del covid ho passato sei mesi al mare quindi ho lavorato dal mare per carità ma è tutta tutta un'altra cosa che non lavorare da Milano adesso infatti già vedo male come replicare questa cosa quest'anno però questo è stato veramente un big win un big win di qualità della vita tu sei abituato a viaggiare per il mondo io ho viaggiato in questo periodo non sono rimasto chiuso nella mia tana abituale laddove laddove si può vediamo quanto mare riesco a fare nel 2021 ma non mare in spiagge in spiagge sono stato poco non mi piace stare lì sotto il sole a cuocere però mi piace la mattina correre sul lungomare mi piace oppure andare la sera in spiaggia quando vedo tutti che rientrano e si sta belli tranquilli durante il giorno si sta a lavorare leggere imparare fare l'orto tutte queste cose contatto con la natura che in realtà è un grosso fail di tante persone perché sono state costrette dal covid a rimanere chiuse e bloccate invece ho avuto la possibilità all'inizio dell'anno pre-covid o inizio covid ero in Mozambico quindi vivere all'aria aperta e poi comunque tre mesi li ho passati al mare dove avevo il mio giardino avevo tutto si lavorava fantasticamente dal mare ricordo queste passeggiate in giardino mentre parlavo con i clienti che davano una carica pazzesca oppure quando parlavo con questi logorroici c'è un mio venditore che è molto logorroico cioè sta a lavorare quando vedevo quando vedevo la sua prima la prendevo andavo nell'otto perché mi vedevo altre queste cose ci sta un altro l'ultimo successo vai per me sta la crescita del team comunque sono entrate tre nuove persone e sono sono molto contento di 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 come stando il team si sono uniti Andrea Michele loro due fanno la parte tecnica e poi Gianina l'ultimo il mese scorso che è partita in treno con è partita come un treno con seguendo la parte di customer success e insomma c'è coesione ci si aiuta il team sta sta funzionando bene ci si diverte ci si diverte anche ci si è diventata parte della famiglia praticamente per me ci spendo tanto tempo insieme Daniel va bene ultimo successo che è di vita personale bello mischiare intanto la vita personale adesso farò rizzare le orecchie i capelli a un sacco di gente sono contento perché ho convinto mia figlia di abbandonare l'università ok questa è una bomba questa è una bomba allora mia figlia ha l'idea di fare l'etologa di studiare la vita di animali e se voleva farlo in Italia doveva fare scienze naturali poi forse trovare qualche post graduate eccetera eccetera e alla fine gli ho detto ma cara fiola guardati le storie dei famosi etologi e dimmi che studi hanno fatto e dimmi che cosa hanno fatto per diventare etologi cioè se l'università gli ha dato questo tipo di università gli ha dato questo vantaggio per cui quando eravamo al mare io con la figlia gli ho fatto fare un corso erano d'accordo gli ho detto cercati dei corsi online per quello che vuoi fare perché quello che tu vuoi fare l'università non è pronta purtroppo le università sono molto molto arretrate per molti dei lavori l'università non ti dà una preparazione specifica ti aiuta a quel mindset ti aiuta a tante cose ma non a fare particolari lavori e quindi gli ho detto cercati dei corsi online e allora ha cominciato a fare questi corsi online National Geographic e finché gli ho detto ma cerca se c'è un'università online che fa quello che vuoi fare te alla fine ne ha trovate due si è iscritto a questo corso online di una università di Cambridge quindi ha mollato l'università in Italia che tra l'altro si faceva online perché era didattica a distanza che aveva smesso di fare le lezioni in presenza e ha incominciato l'università a Cambridge facendo esattamente quello che vuole lei quello che piace lei adesso si spera che a luglio parta dal senese in Sudafrica proprio a lavorare a lavorare sul campo e il grande successo che non so come sia successo per carità è stato anche quello di convincere mia moglie che fosse la scelta giusta mia moglie un po' più tradizionalista e quindi sempre cresciuta tu prendi studia poi ti lauri poi trovi lavoro e queste cose qui e invece infatti quando eravamo al mare con la figlia adesso come facciamo a dirlo a mamma come facciamo adesso non so proviamo poi l'ha presa bene grande successo convincere la figlia a abbandonare l'università italiana ok continua comunque gli studi con con un altro gli studi smart gli studi ma quelli che facciamo anche noi Daniele io e te facciamo dei corsi seguiamo delle cose su quello che ci interessa ci andiamo a specializzare su quello che ci interessa non prendiamo qualcosa già prefatto e quindi quella è la strada cioè la strada ce la scegliamo noi ci scegliamo la strada ci scegliamo gli obiettivi e vedere come come percorrere siccome mia figlia aveva un obiettivo ben preciso che era stato anche più facile poi cioè una volta che tu hai l'obiettivo una volta che hai il gps puntato è anche più facile trovare la strada il problema è quando non hai l'idea quindi non hai l'idea quindi tu vaghi vai alla deriva ma se hai l'idea ben precisa cavolo è molto più facile trovare trovare la strada poi ha aiutato molto a mandarle in America e quindi comunque lei con l'inglese lo mastica e voglia altro che altro che me e quindi nessun problema fare corsi in inglese grande e quindi vediamo se ci scappa un viaggio in Sudafrica quest'anno anche per me andiamo di failure andiamo passiamo ai fallimenti dell'anno il primo per me è stata la comunicazione interna o meglio devo spiegarvi un po' noi utilizziamo Slack che è il nostro ufficio virtuale chattiamo lì e per carità comunichiamo anche bene però mi sono reso conto che veramente troppo sono stato troppo talebano nel boicottare evitare assolutamente telefonate call cioè noi non abbiamo la call del lunedì mattina non abbiamo neanche la call mensile finora abbiamo avuto non abbiamo avuto call tutto fatto via chat e mi sono reso conto che assolutamente non va bene è troppo limitante e avremmo dovuto fare molto di più me ne sono reso conto quando abbiamo fatto il corso appunto di Customer Care che trovarsi tutti insieme a ragionare sulle cose ho visto che funziona molto meglio rispetto a stare a chattarne e quindi ho già preso delle azioni correttive quindi quest'anno abbiamo avuto la prima call ieri e abbiamo deciso ogni due settimane si fa una call dove parliamo di quello di cui c'è bisogno di parlare e poi ho introdotto le call one on one trimestrali quindi questo concetto di management dove ok io sono il manager dei miei collaboratori ogni tre mesi controlliamo come vanno le cose obiettivi e come va la collaborazione quindi sì è stato un failure ho introdotto adesso delle azioni delle azioni correttive Daniele grosso fail 2020 sono stati i webinar io ero partito per fare dei webinar poi avevo sempre una scusa prima ero in Mozambico poi quando ero al mare la connessione non era stabile e poi quando ero a casa non era presentabile la location insomma avevo anche preso la subscription di StreamYard per fare tutti questi webinar alla fine utilizzata solo per diario per registrare il podcast sicuramente avere fatto i podcast live mi dà molta più confidenza però nel 2020 forse perché non me l'ho messo come obiettivo l'ho lasciato andare ne sono perdito fail il mio secondo fail è stato legato alla parte di finanze e profitto cioè a febbraio sono passato da essere una partita IVA a essere l'equivalente all'SRL olandese qua Marco l'avrei sconsentito cento volte sta storia quindi ne ho già parlato nel podcast vedo di fare di stringere il fatto è che cambiando ragione cambiando tipologia di azienda sono cambiate le dinamiche e dinamiche anche di cassa di come entrano e escono i soldi in particolare io mi sto pagando uno stipendio quindi sto meglio che mai perché io ho un mio stipendio che mi fa stare tranquillo però a livello di bilancio profit loss eccetera i numeri sono molto cambiati rispetto all'anno scorso e questo mi ha fatto preoccupare molto ci sono stati dei mesi in cui eravamo in rosso e non capivo perché abbiamo più clienti abbiamo più lavoro fattoriamo di più però in realtà rispetto all'anno prima i numeri come mai sono cambiati così tanto ci ho messo tanto a capirlo però alla fine ho capito che è un problema che è un non problema più legato comunque a come funziona diversamente questa struttura dove pago le tasse sul mio stipendio ogni mese mentre prima le pagavo l'anno dopo quindi grazie anche a novembre dicembre che sono andati molto bene i numeri sono ok non me ne sono non me ne voglio non mi voglio preoccupare troppo di questa cosa il failure diciamo è stato che sono arrivato non preparato e ancora adesso penso che ci vorrà ancora tempo per capire esattamente poi cosa devo pagare a fine anno eccetera e anche se il commercialista te lo spiega te lo rispiega poi alla fine la mia esperienza è che le cose le vedi sul campo perché poi quando ti arrivano le lettere anche il commercialista non sa cioè vede cosa succede non so non ero tanto preparato e questo è stato un failure Daniele non capisco perché lo metti nel fail secondo me è stato un big win perché sei cresciuto perché sei cresciuto perché hai capito che sbagliavi prima perché non dandoti lo stipendio e quindi tu non capivi effettivamente che c'era qualcosa che non andava nei tuoi conti perché tu mischiavi il tuo stipendio con è chiaro che se anche adesso tu non ti dessi lo stipendio se il tuo stipendio fosse zero tu avresti dei grossi profitti però e questo è uno dei grandi errori che fanno i professionisti cioè non calcolano se calcolano il loro bilancio cioè se calcolano come vanno le cose non mettono dentro il loro costo perché se non metti dentro il tuo costo è un grosso plesso passando a quella che in Italia è la SRL quindi la BV olandese sei costretto a darti uno stipendio e quindi questa variabile che non mettevi precedentemente sei costretto a metterla e quindi ti dà la visione reale delle cose quindi il big win è che adesso hai dei numeri reali mentre prima avevi dei numeri fittizi falsi è vero vado molto più positivo è come per me per presentazione animata no cioè se io guardo i numeri contabili vado molto bene ma se devo mettere dentro il mio stipendio non è che ci siano questi profitti enormi ok poi va bene il mio stipendio lo prendo facendo altre cose perché ho altre attività però lo so lo so ne sono conscio nei miei calcoli ho ho due numeri ho il profitto reale del conto in banca e il profitto fittizio se mi pagassi uno stipendio reale ok per il tempo speso all'interno di presentazione animata poi i costi miei ok col costo che valgo io non col costo di un di un dipendente ok quindi Daniele big win sposta dove qui ok sì no sicuramente i numeri sono più realistici adesso diciamo il fail è che secondo me avrei dovuto essere più preparato avere più visione di quello che sarebbe che sarebbe successo il primo anno ma va beh allora uno dei uno dei fail miei è che non c'è stata crescita di fatturato come dicevo prima non c'è stato questo 2x di crescita del fatturato minimo cosa che mi aspetterei una crescita di 2x anno per anno anche se abbiamo parlato nel mastermind della crescita 10x che ti da porto questo forse come obiettivo ma non c'è stata crescita ma c'è stata crescita dell'utile perché l'ho spiegato anche prima è stato uno spostamento di video verso video di qualità più alti quindi di spostare proprio anche come tipologia dei clienti per cui è un fail il fatturato ma compensato da fare meno video ma di qualità più alta e con un margine con un margine maggiore per cui a margini ci stiamo siamo in crescita fatturato meno ok Marco per me il failure li ho finiti nel senso che poi c'è la delega del marketing e visitare tre nuovi paesi ma l'abbiamo già detto prima guarda io ce ne ho una lista lunga le dico solo l'ultimo era quello di lavorare con l'agenzia di comunicazione una delle cose che mi è sempre piaciuto è di lavorare con l'agenzia di comunicazione perché come lo dicevi te avere clienti ricorsivi è tutta un'altra cosa che non andare alla caccia ogni volta del cliente nuovo clienti che mi fa il video ogni tanto tornano magari dopo un anno dopo due anni qualcuno fa due o tre video ma non ho un video al mese che mi fanno i clienti e quindi una di queste era quella di passare verso le agenzie di comunicazione non ho fatto tanto per fare in modo di lavorare con le agenzie di comunicazione sempre con la scusa aspetto 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 il libro quindi prima fai il libro poi lo pubblico adesso l'ho pubblicato però lo considero come un failure del che mi porto dietro dal 2020 sì non l'avevo tra gli obiettivi ma anche per me i tentativi che ho fatto con l'agenzia non sono andati molto lontano voglio dire in realtà c'è stata una un'agenzia che ha dato una buona con cui c'è una buona collaborazione e ci hanno passato tanti i loro parcositi a gestire però ecco io ne volevo ne volevo volte di più però vabbè credo che sia un approccio una vendita completamente completamente diversa per cui non non eravamo preparati bene Daniele allora a sto punto diamoci degli obiettivi per il 2021 obiettivi 2021 vai chi parte? parti te? vai dai Daniele sempre io ok allora il primo obiettivo è gli eventi vpok voglio sicuramente ripetere vpok day che è stata una bella esperienza e voglio fare un team meeting fatto bene un weekend insieme da qualche parte spera confidando nel fatto che prima o poi si potrà tornare a viaggiare benissimo Daniele adesso faccio una premessa sugli obiettivi 2021 l'ultimo libro che ho letto dei 29 si chiama First thing first le prime cose al primo posto è il libro di Stephen Covey in cui si parla all'interno di questo libro di quattro bisogni umani questo poi c'è chi come Tony Robbins ne parla sette comunque lui ne parlava di quattro e dice che il soddisfaccimento dei quattro bisogni dei quattro bisogni umani è fondamentale cioè tu devi lavorare su tutti e quattro bisogni per essere completamente felice ok quindi mi sto dando degli obiettivi ognuno per ognuno per ognuno di questi quattro bisogni primo il bisogno di vivere quindi un bisogno di bisogno fisico di cibo vestiti riparo stare bene un bisogno il secondo bisogno è amare quindi bisogno di sociale di relazionarsi con le altre persone e poi un bisogno di imparare bisogno di svilupparsi e crescere e l'ultimo è un bisogno la necessità di lasciare un'eredità cioè un nostro bisogno spirituale di avere un senso di significato di scopo di contributo nella vita ok se queste quattro esigenze ce ne hai una non soddisfatta questo può può portarti in uno squilibrio ok e quindi dice che la chiave della vita di vivere bene è soddisfare più o meno tutte queste quattro esigenze perché mi sono dato quattro obiettivi ognuna e in queste quattro in queste quattro sfere quindi obiettivo più facile semplice quello di imparare quindi il bisogno mental di sviluppo e crescere che è stato un grosso win voglio continuare a darmelo come obiettivo Daniele 24 libri anche quest'anno non devo scendere non devo darmi per vinto è la cosa che mi ha portato di più che mi ha lasciato un contributo maggiore quindi investire in me stesso nella crescita personale per cui lo coppio dall'anno scorso ma è talmente importante lo sprono chiunque ascolte e darsi un obiettivo simile che non siano anche 24 che siano 12 che siano 6 importante che datevi un numero e fatelo ok Marco allora io ho controvato dicendo che mi piace quello che quello che hai detto avevo una una scaletta simile di quattro di quattro aspetti della vita cioè body mind spirit e world quelli che siamo allineati neanche averla programmata prima quindi mio secondo obiettivo mi allineo al lo sposto dopo il tuo quello di leggere per me è 12 libri perché non voglio aumentare voglio mantenere 12 libri perché per me è la la quantità giusta per darmi del tempo per leggere e comunque poi ci sono tanti altri modi diciamo di imparare e di ricevere informazioni penso ai podcast che sto ascoltando sempre di più con la corsa e quindi 12 libri 12 libri fantastico fisico ok ok la corsa c'è sempre oramai quella è entrata nella routine e continuerò a parte la piccola pausa che ho fatto in Mozambico dovuto a temperature situazioni diverse su quello oramai vado oramai i miei obiettivi continuo a farlo voglio aggiungersi un altro io ho un problema di elasticità cioè nel senso che per esempio quando sto in piedi mi piego sai quando ti pieghi vai giù con le braccia tieni le gambe dritte vai giù con le braccia non tocco per terra devo migliorare l'elasticità quello che voglio è trovare una routine un'abitudine di fare stretching e quindi l'obiettivo è fare almeno 365 sessioni di stretching nel 2021 ideale farne una al giorno se salta come ieri poi mi sono dimenticato mamma mia poi tutto quello che è successo in America ho fatto tardi per capire poi era le 11 di sera non avevo voglia di fare stretching e se salta una da recuperare assolutamente non si lascia indietro voglio trovare un'abitudine questo per la parte fisica parte fisica anche per me è la corsa perché è la nostra passione e quindi ho degli obiettivi vorrei fare mille chilometri che per te oramai è la norma però io l'ultima volta che ho fatto mille chilometri era qualche anno fa e correre o una maratona intera o fare il miglior tempo sulla mezza maratona una di queste due cose mi piacerebbe fare una maratona vediamo 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 poi l'altro obiettivo cos'è che abbiamo fatto è amare 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 e quindi relazioni e quindi voglieli su questo obiettivo l'obiettivo è trovare un paese dove andare a vivere eh Daniele urca 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 in questo periodo mi intripa il portogallo e quindi come obiettivo andare a visitare il portogallo visitarlo bene starci almeno due o tre settimane e vedere se poi è un luogo papabile dove potersi trasferire cari amici digi imprenditori qui lancio un appello se qualcuno di voi vive in portogallo vuole darmi consigli benvenga sono 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 bene ben accettato ho convinto la moglie ad andare a visitare il portogallo vediamo covid permettendo tra l'altro Daniele la maratona di Lisbona è al 20 di ottobre ottobre 2021 sia mai oh sì sia mai che sì sia mai che che la fanno sia mai che la fanno sia mai che la fanno sia mai che sia un'opportunità per sì io come obiettivo ho come obiettivo diciamo per per il mio spirito ho un mese in camper van non so se riusciremo a comprare un camper van non so se lo affitteremo non so se ti fregherò il tuo però l'obiettivo quest'anno voglio fare un mese in giro con con camper van eh bene sai che il mio l'idea era di andare in portogallo in camper originaria poi ho visto che sono due chilometri andare due chilometri a tornare il problema è due chilometri insomma non sono pochi il problema è che mia moglie non è che abbiamo un mese di ferie che si può prendere un mese di ferie io posso andare lavoro comunque non c'è problema dunque sia sul camper ho lavorato tante volte dentro il camper facciamolo io e te Marco il mese lasciamo le moglie a casa facciamo io e te un mese in camper van in portogallo si potrebbe Daniele c'è un problema avevo anche l'idea di prendere il camper e girarmi i clienti quindi farmi il giro di tutta Italia di clienti italiani ma vediamo anche perché sai non sai col covid andare negli alberghi andare a mangiare al ristorante sono tutte le robe mie chi se ne frega poi non devi prenotare né niente era un'idea che mi è venuta ma se amai che la riprendo quarto obiettivo quindi lasciare un'eredità è proprio decidere qual è il mio scopo ultimo che non vuol dire che è ultimo che poi non ci saranno più nella vita però avere uno scopo al di là del lavoro questo Daniele sarà molto difficile perché non so da che parte iniziale forse avrei bisogno di un life coach non ho la più palida idea mi piacerebbe fare delle esperienze ma anche qui covid permettendo di capire se andare a costruire impianti fotovoltaici nel mondo nei posti più remoti dell'Africa potrebbe essere un'opportunità potrebbe essere quello di andare a riforestare qualche area in giro per il mondo insomma decidere qual è il mio scopo ultimo la vedo dura ma ci devo assolutamente lavorare poi questo libro mi ha spronato molto a capire che ci deve essere qualcosa al di là del lavoro è difficile ma lo devi affrontare per me l'obiettivo legato al mondo nel senso a cosa dare gli altri voglio far partire un più ok for goods praticamente è il lato è il lato di più ok dove sosteneremo per supportare delle cause in cui crediamo quale cause crediamo non lo so ancora sarà parte del processo però sto pensando o di devolvere una parte di quello che vendiamo o offrire i nostri servizi in modo gratuito a delle associazioni non profit non lo so è un po' da sviluppare però è un progetto che voglio portare avanti e definire quest'anno bene ci siamo andati quattro obiettivi ce ne vogliamo dare di più tu quanto sei messo aspetta aspetta ci siamo andati cinque no io ho i libri il portogallo lo stretching e lo scopo ultimo della vita su un quadro ah perché hai iniziato te ho iniziato io sì ah quindi dai dai 5 e 5 anche io Daniele ne ho parlato prima era un fail ma questo fail deve diventare un win ce la faccio 10 webinar di presentazione animata nel 2021 lascio fuori agosto dicembre 10 webinar devo fare 10 live 10 live con i clienti sicuramente il video è l'anno del video Marco abbiamo concluso anche questa parte qua degli obiettivi 2021 direi che ci siamo quasi siamo quasi a fine episodio mancano degli altri obiettivi mancano i micro obiettivi nelle prossime due settimane da fare perché per te la prossima puntata adesso abbiamo ripreso la parola abbiamo fatto vacanza adesso dobbiamo tornare in the business o on the business a migliorare le nostre aziende a migliorare il nostro servizio yes parto io obiettivo numero uno dare un calcio a click funnel quindi è kick funnel diventa eliminare click funnel dalla mia vita avevo già iniziato a fare una parte e adesso quella definitiva basta non voglio più pagare l'abbonamento a click funnel ne avevo già parlato ne riparlerò ci sono anche altre storie che mi hanno fatto girare le balle di click funnel basta me lo voglio togliere completamente dai piedi obiettivo numero uno e obiettivo numero due riprendo l'ultimo le pagine della nuova UX UX sempre in ottica di migliorare la la customer il rapporto col cliente quindi di rimigliorare l'immagine e di crescere come tipologia di cliente ottimo Marco primo obiettivo voglio creare la not to do list ho letto questo concetto interessantissimo dove siamo sempre ossessionati con la to do list invece è importante avere una not to do list una lista di cose che è assolutamente da non fare ne ho già in mente qualcuna che non dovrei fare e che invece continuo a fare voglio stilare questa lista che poi andrò a rivedere ogni trimestre secondo obiettivo registrare due video cavolo sempre sono rimasto un po' indietro con i video nell'ultimo l'ultimo mese e mezzo quindi voglio partire l'anno nuovo con due video per il canale youtube perfetto perfetto Daniele siamo arrivati in fondo anche a questa puntata qua ci siamo tutti ringraziamo Antonello Antonio Mike Antonino tutti quanti ci hanno scritto nella chat durante la diretta puntata lunga dai dai bella puntata c'era tantano provettiamo le prossime di stare un po' più un po' più brevi Daniele ci sentiamo tra due settimane ok ciao Marco ciao a tutti ciao 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 ricordati di iscriverti al gruppo telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate lascia una recensione su apple podcast speaker o le altre piattaforme di podcast facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate ringraziamo il nostro editore you media web se vuoi contattarci vai su digi imprenditori e punto it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio a presto ciao 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 ciao